A breve riprenderanno le odienze presso il Tribunale di Lago Negro con una serie di nuove disposizioni da seguire che ne limiteranno inevitabilmente anche il lavoro e l'azione. Limitazioni che sono state segnalate da più parti e che tal proposito ha riportato anche alla luce le difficoltà derivanti dall'accorpamento avvenuto nel 2013 di un tribunale più grande come quello di Sala Consilina all'interno di una struttura decisamente più piccola e con un bacino di utenza ridotto rispetto al foro di giustizia salese. Così come ridotto risultava anche il numero di avvocati iscritti all'ordine locale. Ora che la necessità di spazi ampi e di percorsi adatti a garantire il distanziamento sociale diventano una necessità regolata dalle disposizioni normative, ecco che si riaffaccia il problema più volte denunciato nel corso degli anni. Grande attenzione sulla questione arriva dal Codacons Vallo di Diano ed in particolare dalla referente avvocata Silvana Viola che ai nostri microfoni segnala come gli spazi per poter svolgere le udienze con l'approssimarsi della riapertura sono limitatissimi. Nel suo intervento non manca di sottolineare come il Vallo di Diano necessiti di un presidio di giustizia sul posto. L'Associazione dei consumatori fin da subito ha sposato la lotta contro la soppressione del Tribunale di Sala Consilina e fin da subito abbiamo naturalmente denunciato le inconcluenze, cioè un Tribunale più piccolo non poteva naturalmente accortare un Tribunale più grande con una sezione distaccata e ad oggi abbiamo praticamente avuto ragione noi, cioè purtroppo il Tribunale di Lago Negro non è in grado di assicurare il distanziamento sociale. Dal primo luglio riprenderanno naturalmente le udienze e ci ritroveremo naturalmente ad utilizzare poche aule del Tribunale di Lago Negro perché solo poche di esse hanno praticamente un'ampiezza sufficiente ad assicurare il distanziamento sociale. Noi in questo territorio, questo è naturalmente un appello ai politici del territorio, a naturalmente ripristinare quelli che sono i servizi nel Vallo di Diano, dal ripristino del Tribunale al ripristino dell'Istituto Penitenziario, ma anche alla creazione di nuovi servizi, qual è una strada ferrata che ci colleghi alla provincia di Salerno. Lo stesso Luigi Curto di Polla deve essere praticamente potenziato perché il Vallo di Diano è un bacino di utenza con un numero di persone superiore ai territori limitrofi, quindi alla stessa vicina Basilicata ma anche a Vallo della Lucania. Non andavano soppressi i tribunali, soprattutto al sud. Considerate che nel Vallo di Diano c'è naturalmente, ci sono delle infiltrazioni camoristiche che richiedono un opportuno intervento, richiedono una procura presente sul territorio.